Ciao a tutti, oggi è mercoledì 12 luglio 2023, sono qui con la Veronica che sta facendo l'uncinetto, siamo fuori in giardino, c'è caldissimo, sono 35 gradi e allora ho detto faccio un video sull'attrezzatura che utilizzo per fare i video su YouTube, sulla fotocamera, sulla parte audio, sui vari accrocchi che mi sono fatto, sui caschetti, sui microfoni, sul registratore, sulla cam, quella piccolina l'SJ che utilizzo per fare i video, mi sono fatto qualche slide che dopo vi metto in fondo al video, così potete vederla e volevo fare questo video per farvi vedere un po' l'attrezzatura che utilizzo, perché in diversi nel gruppo me l'hanno chiesto e poi se qualcuno di voi vuole fare qualche video da caricare qui su questo canale, il progetto è un progetto di condivisione, non è un mio canale, il canale di tutti, chiunque può fare video li può inviare, se non sa fare il montaggio magari manda la traccia video e la traccia audio separate o il video completo e dopo procediamo al montaggio e a caricarlo. Allora partiamo dalla parte audio, perché in un video la parte più importante non è solo la parte video, che sicuramente ha la sua valenza, però l'audio è fondamentale, perché un video anche se non si vede perfettamente ma con un buon audio scorre bene, viene visto bene, non è fastidioso, mentre un video anche con un'altissima risoluzione ma con un audio disastroso che non si sente o va a scatti o gracchia è un problema. Qui io adesso sto utilizzando due microfoni, uno e uno due, sono due lavalier, perché io utilizzo sempre e cerco sempre di utilizzare due tracce audio, perché? Perché in passato ho avuto problemi e magari me ne salta una eccetera, perché adesso ho tre tracce audio. Ho quella dell'SJ Cam 5000 X Elite che sto utilizzando, che dopo vedremo nelle slide per filmare. Poi ho un cellulare con Android, con installato a questa applicazione, vedete quando parla al suo setaccio vedete che è abbassata l'onda ed è tornata su. E poi l'ho attaccato un lavalier a questo, che ho cerca sul petto. E poi ho questo Tascam, un DR05, un modello un po' vecchiotto, vedete anche qui il setaccio, se parlo vedete come sale. E questo registra in WA 24 bit 96k su un SD e un altro lavalier qui, che è questo qua, della Sennheiser, è un pochino più valido. Quindi qui ho fatto una slide con alcuni registratori che si possono utilizzare. Ci sono dei Tascam piccolini, dei registratori che vengono utilizzati per i matrimoni, per qualcuno che vuole fare una cosa abbastanza seria. Quindi questi sono sono piccolini, si possono posizionare ovunque, resistano 24 bit, hanno il loro lavalier, come questo tipo, con lo spinotto che si può avvitare, che non scappa più. E poi il microfono, questi qua, questa tipologia di microfono viene chiamato lavalier, da quello che l'ha inventato. E si possono posizionare sulla camicia, sul torace, dove uno ritiene più opportuno e registriamo una traccia audio a parte. E altrimenti io ho fatto l'immagine del Tascam, anche questo che ho io. Questo io adesso lo sto utilizzando con un microfono lavalier, altrimenti si possono utilizzare direttamente il suo microfono condensatore, però per il parlato, specialmente quando si lavora in campagna, come faccio io, dalle api, è sempre meglio avere un microfono vicino, perché si cattura solo la voce e non tutto il sottofondo. Tipo sentite adesso gli uccellini, Bicicale, la Veronica. Se io avessi questo qua condensatore, andrei a teare dentro ancora più rumore, anche se ce n'è già tanto. E poi questi, tipo questa tipologia, questo e lo Zoom F2. Questo qua è un'altra tipologia, sempre tipo matrimoni, piccolina, che è un po' la concorrente di questo tasca. Questo qua è il DR-10L, questo qua è lo Zoom F2. Questi qua sono dispositivi, questo qua registra, credo, a 32 bit, che è ancora, qualitativamente, ancora migliorativo. Anche in fase dopo di post-produzione si può gestire meglio l'audio. Hanno delle microSD integrate, registrano su quelle. Come dicevo, un microfono registratore serio fa una differenza. Io per tanti anni, quando avevo prima il canale YouTube di Apicoltura, ho usato sempre un cellulare, come dicevo prima, con la sua applicazione, come questa. Dopo vado a registrare la traccia audio e poi me la scarico sul computer e poi dopo vado a sincronizzarla con la parte video. Una volta andava fatta manualmente questa operazione, adesso ci sono dei software appositi di editing che lo fanno in automatico ed è molto semplice. Questi qua sono gli altri due che sono uguali, identici a quelli che ho adesso adesso, che è questa tipologia. Questi qua sono economici, vengono 10 euro. Questi qua hanno i tre spinotti, hanno uno spinotto con tre segni neri che va bene per il cellulare e viene chiamato TRRS. Dopo vi faccio vedere nella slide la differenza. Questa tipologia qui, questo qui adesso non ha la clip da posizionare, è un TRRS perché ha solo un R e questi qua sono piccolini, possono entrare anche nelle asole delle camicie eccetera. Questo qua avendone solo due lo posso usare col Tascam perché il Tascam non accetta questi tre spinotti qua che invece accetta il cellulare. Come vedete qui nell'immagine si può utilizzare anche un cellulare con un'applicazione. Per quanto riguarda la parte audio del microfono, come vi dicevo, vi ho fatto vedere prima queste due tipologie, quello a tre spinotti diciamo, quello a due, che sono questo qua a due e questo qua a tre. E poi c'è questo qua che io consiglio a chi deve iniziare, il Boia M Y M1. Questo qua l'adattatore sia a tre poli sia a due poli, è molto comodo e si può utilizzare sia con le fotocamere direttamente che hanno l'ingresso a due poli sia col cellulare che hanno il tre. Qua vedete la differenza, TS ha solo diciamo una stanghettina, TRS ne ha due e il TRRS ne ha tre. Quindi questo è un TRS, questo è un TRRS. Questa tipologia va sul cellulare e questo qua va sulle fotocamere. Poi esistono degli adattatori per far andare, per convertirli uno con l'altro. Li trovate anche su Aliexpress o la Rode, le vende eccetera. E questo qua per quanto riguarda la parte del microfono. Per quanto riguarda la parte video, io mi trovo bene a utilizzare queste simili GoPro cinesi. Io ho sempre acquistato le SJCAM perché tra le cinesi sono diciamo quelle che hanno un firmware migliore, sono più aggiornate, funzionano bene, l'apporto qualità prezzo è valido. Questa qua è quella che usavo prima, è la 4000, ve l'ho tirata fuori per farvela vedere. Ha uno schermo posteriore e l'obiettivo davanti. Poi le vengono vendute con tutti i suoi loro adattatori, tipo questo qua e quello per andare sott'acqua. Dopo vi faccio vedere il dettaglio delle modifiche che ho fatto per poter utilizzare. Io li utilizzo questa qui, è la maschera d'apicoltura. La inserisco qua, la camera. Questa qui quando vado dalle api mi firma direttamente i telaini, è quello che faccio. Qui ai tasti ho forato la parte dove c'è il microfono perché altrimenti l'audio non viene catturato. Anche se a me interessa poco cattura l'audio perché utilizzo sempre le tracce che faccio con i registratori, però non si sentiva niente, quindi risultava difficile sincronizzare. Poi ho tolto il vetrino davanti. Qui di solito c'è un vetrino, l'ho eliminato perché dà fastidio all'obiettivo, dà fastidio all'obiettivo della camera. Dopo magari non si vedeva bene, si appannava o il video non veniva bene, la qualità video non risultava idonea. E questa qua è quella di apicoltura. Una classica maschera dove ho applicato due bulloncini. Questo qua è tipo quelli dei marsupi schiacciando viene su e poi ho fatto una mascherina per regolarlo sempre alla stessa inclinazione quando lo sposto perché questa dopo la metto qui. Adesso qui ho messo quella vecchia che c'avevo, però per la cam che ho, la 5000X Elite della SG Camo, solo questa. Ho preso quella lì perché costava tipo 50 euro su subito. Non è il massimo, però io registro a 1080p 60 frame al secondo, quindi 1920x1080 60 frame. Potrei andare a una risoluzione migliore, però dove andare a meno frame, visto che faccio più che altro video in movimento, mi risulta meglio sempre avere più frame che il movimento più fluido. Questo qua invece è un caschetto che utilizzo quando vado nella vigna. I video che vedete nella vigna o i video che ho fatto magari quando faccio manutenzione agli innesti sono tutti fatti con questo. Me lo applico in testa, questo qua me lo blocco sotto il regolabile, l'ho modificato io. Poi ho fatto un foro, ho messo una gomma piuma, la staffa e poi smonto l'adattatore che avete visto prima, lo regolo qui. Anche qui mi sono fatto due legnetti per tenere la stessa inclinazione. Lo apro. Adesso vediamo se ce la riesco con una mano. Comunque vado a inserire questo qua dentro. L'obiettivo viene qui, lo manovro da qui e filmo tutti i video con questo anche in movimento così ho le mani libere e riesco a lavorare bene, riesco a filmare anche se non da vicinissimo però almeno riesco a lavorare mentre faccio i video eccetera. Per quanto riguarda la parte di montaggio e sincronizzazione delle tracce audio, quindi montaggio video, quindi tagli, inserimento di magari sigle, immagini, gli effetti eccetera, io uso come software DaVinci Resolve che è un software gratuito, io lo uso in ambiente window, è molto comodo, scaricandolo già gratuitamente libero e ha tutto quello che vi può servire per fare dei video a livello amatoriale su YouTube. Io mi trovo molto bene, ha la funzione di sincronizzazione delle varie tracce in automatico in base alla forma d'onda delle varie tracce e in due minuti si sincronizza tutto, poi si fanno i tagli eccetera, e trovate un sacco di tutorial gratis su YouTube per imparare e occorre un PC abbastanza potente, più che altro con una scheda video decente, perché altrimenti se no non riuscite a fare post-produzione sui video perché va cambiato, io lo chiamo il decoder, ma è l'H264 che è il formato di compressione, il compressore diciamo. Una volta fatto il video va estrapolato, ci va messo all'audio che registriamo a parte, va tagliato e poi va convertito e poi va caricato su YouTube. E come vi dicevo, come software non posso che consigliarvi DaVinci Resolve. E questo è un po' quello che volevo farvi vedere oggi, se magari qualcuno di voi si vuole avvicinare a questo mondo e condividere il suo sapere quello che sa fare con noi, vuol fare video e se li vuoi caricare qui, aprire un proprio canale, quello che uno vuole fare. E ho detto faccio un video così magari che alle prime armi lo vede, si appassiona, gli viene voglia e spende magari quei 150 euro che occorrono di attrezzatura perché una cam decente come quella che ho io viene 50-60 euro usata. Un lavalier come quello che avevo consigliato prima che trovate nelle slide, questo qua, dov'è che ce l'ho, questo qua io vi consiglio di prendere, questo modello qua anche se non ce l'ho ma ho visto sui video che lo consigliano tutti, costa una ventina d'euro, c'hai gli adattatori eccetera e se volete fare, io vi consiglio di prendere tipo un Tascam DR-05 usato, lo pagate un'altra cinquantina d'euro che vi consente di registrare bene, non avete problemi o altrimenti usate un cellulare. calerà un po' la qualità, però il cellulare può anche bloccarsi, mentre questo funziona molto bene, io ho visto e non ha particolari problemi. Poi ha il tasto di blocco e se lavorate tipo in campagna l'ho bloccata, se non l'ho bloccato perché sono qua sul tavolo. Poi ha il guadagno settabile, è molto molto comodo. È un hardware dedicato molto valido. E nient'altro, volevo solo condividere queste informazioni con voi. Se avete qualcosa da chiedere, scrivete pure nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di Telega del progetto Biodiversità Condivisa, lo trovate me, Veronica e tanti altri ragazzi che possono aiutarvi se avete qualsiasi necessità. Quindi vi ringrazio, vi saluto e alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao ciao. 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 Ciao.